Ora lo stop è arrivato da parte degli ambulanti e da Barletta si infiamma la protesta dei mercatali niente mercato del sabato dopo oltre due mesi di chiusura e che oggi avrebbe riaperto i battenti a metà per la decisione del comune di Barletta di farlo diventare quindicinale ed alternare ogni settimana i 300 ambulanti. Stato di agitazione con il rifiuto di aprire questa mattina le proprie attività in Largo Ariosto dopo il lungo incontro di ieri fino a tardasera tra i rappresentanti di categoria e l'amministrazione comunale stamane piazza praticamente vuota con il solo mercato alimentare e diversi operatori che sono giunti per esprimere il proprio dissenso nel rispetto delle distanze interpersonali. Sorveglianza da parte delle forze di polizia e dei militari giunti ieri nella BAT per i mercatali. La decisione del comune è irricevibile perché sarebbe una violazione dei diritti degli operatori spiegano gli ambulanti che hanno acquisito licenze per banchi settimanali ed in specifiche posizioni. Per l'ente invece è questa l'unica via percorribile per far ripartire in sicurezza l'attività mercatale del sabato. Una vicenda ben lungi dall'essere conclusa.